Uno scippatore seriale è stato arrestato dalla squadra mobile di Trieste. Dopo l'ultimo episodio in via di Barton, il 17 di febbraio, il 46enne triestino è stato arrestato per il reato di furto con strappo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha strappato la borsetta ad una donna guidando a bordo di un ciclomotore, risultato poi rubato, e dandosi poi alla fuga. Il soggetto, identificato in breve dagli agenti, è stato fermato poco dopo, mentre tentava di disfarsi della borsetta rubata in un cassonetto. Al suo interno c'era il portafogli e i documenti della mai capitata. Il pregiudicato ha poi confessato altri scippi commessi in città tra dicembre e febbraio. Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato tratto in arresto a disposizione della procura, mentre gli effetti personali facenti parte della refurtiva sono stati restituiti alla vittima, così come lo scooter prelevato in un'area di sosta di periferia, anche questo restituito al legittimo proprietario.